A Martin Sicuro il 12 giugno si vota, tre sono i candidati sindaci, vieni a conoscerli con me. Uno dei candidati è Massimo Vagnoni, nonché sindaco uscente, sostenuto dalle liste Martin Rosa, progetto comune, continuiamo insieme. Candidato sindaco è Mazzaroli, si presenta con una lista unica, rigeneriamo la città. Candidato sindaco Simona Lattanzi, con Europa Verde, Piazza Grande e Partito Democratico. Ma quindi per chi bisogna votare? Non lo so, questo lo sai tu. Tu vota a seconda coscienza, quello che secondo te è meglio per Martin Sicuro, per noi cittadini di Martin Sicuro. 12 giugno, comunque vada, sarà un successo, vieni a votare, quella è la cosa più importante. Iscriviti al canale Oh, 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 I'm nobody's baby, so oh